E allora, sento un sindacalista parlare, ogni tanto mi faccio del male, guardo quelle trasmissioni, ogni tanto non resisto. L'ultima era Ballarò, chiamato Ciro, che ha dieci anni. Perché io ho fatto anche una vita, ve lo devo dire. Mi hanno, prima, messo sotto controllo il telefono per cinque anni. Il tronchetto dell'infelicità che se lo becco gli faccio un culo come una cappante. Ma no, ma ferma, ferma, ferma. Io non ho niente da nascondere, ma un paese, lui è un privato che intercetta il telefono di un altro privato. Io non ho fatto nessun reato, però sono stato intercettato cinque anni. Ho fatto una denuncia contro i gnoti perché io voglio i nastri, perché voglio sapere che cazzo ho detto in quei cinque anni lì, perché mi piace, non mi ricordo più. Poi l'ultima, un finanziere è stato corrotto dai giornalisti di Panorama e hanno fatto un'indagine fiscale su tutta la mia famiglia, mio fratello, mia cognata, mio nipote. Io ho sei figli, tutti i figli, mia moglie. Hanno lasciato fuori Ciro che ha dieci anni, che è quello che ha intestato tutto.